Musica Ho pensato ad un cocktail tropicale che ci ricorda un po' i paesi esotici, la pignacolada, e l'ho un po' rivisitata con gli ingredienti di casa nostra. Allora ho preso dell'ananas, l'ananas è ricco di fibre, è diuretico, è drenante, rimineralizzante, è anche molto dolce e piacevole al palato. E prepariamo così uno smoothie. Potete anche fare una bella crema, una bella crema ghiacciata, perché questo ananas potete anche congelarlo oppure tirarlo fuori dal frigorifero molto molto freddo. Questo qui è una bevanda al cocco, senza zuccheri aggiunti, e una punta di cocco rapè. Ecco qui, potete anche, mettiamo così, due cucchiaini. Abbondiamo perché il gusto è davvero molto molto piacevole. Dopodiché frulliamo. Musica Ecco qua, ora vi faccio vedere poi ovviamente in base a quanta parte liquida utilizzate ottenete un drink più fluido oppure più cremoso. In questo caso il drink è abbastanza fluido. Dovresti stare qui per sentire il profumo di ananas e di cocco e anche insomma un drink che fa attenzione alla linea, perché comunque l'ananas appunto è alleata del benessere. Abbiamo utilizzato la bevanda al cocco, quindi non la crema di cocco che è più grassa e più calorica, senza zucchero. E due cucchiaini di cocco rapè, che saranno circa 10 grammi, 15 grammi, quindi davvero insomma un drink molto molto goloso e che strizza l'occhio alla linea. Musica 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 Grazie a tutti